Grazie per l'invito, Jamal. È davvero bello qui. È il mio posto preferito. C'è una cascata laggiù. È un posto molto romantico. Ok, andiamo laggiù. Marcus, cosa stai facendo qui? Ciao Lisa. Sto solo guardando alcuni video. Anche Jamal è qui. Sì, io e Lisa abbiamo un appuntamento. Stiamo andando alla cascata. È davvero romantico lì. Se capisci cosa intendo dire. È stato anche il nostro primo appuntamento, Lisa. Sì, lo so. Ok, divertiti. Perché la vita è così ingiusta? Amo Lisa più di ogni altra cosa. Devo riconquistarla. Sono sicuro che Manuel può aiutarmi. Ehi, Sara. Che ti succede? Ehi, Samuel. Non molto e con te? Sì, nemmeno molto. Andiamo al cinema? Questo non è possibile. Perché? Non ci vediamo da secoli. Mio padre non vuole che stiamo insieme. Questo è ingiusto. Lo so, ma è così. Possiamo incontrarci nel bosco. C'è una casa sull'albero. Nessuno ci vedrà. Ok, quando devo essere lì? Ci vediamo tra un'ora. Ok, a presto. Ciao, tesoro. Com'è andato il tuo viaggio? Abbiamo avuto un po' di turbolenza. Ma per il resto è andato tutto bene. È bello riaverti qui. Hai ricevuto un messaggio. Chi è Adam? Oh, quello è un vecchio amico. E da quanto tempo siete in contatto? È passata circa una settimana. Quindi da quando sono partito? Sì, per così dire. Wow, è davvero bello qui. Grazie per avermi portato qui, Jamal. Finora ti ho mostrato questo posto solo, Lisa. Quindi sono speciale. Sì, molto speciale. Voglio farti una domanda. Non ero io sull'autobus. Qualcun altro ha scoreggiato. No, non intendevo questo. Oh, allora dimentica quello che ho detto. Cosa vorresti sapere? Vuoi stare con me, Lisa? Kunzibar, dove sei stato così a lungo? Ero ancora al lavoro. Ma volevamo uscire oggi. Lo so, Paola. Ma ho dovuto correggere i test. Ho buone notizie. Hanno tutti una F. Non hai mai tempo per me. Questo non è vero. Ma il tuo lavoro è più importante per te di ogni altra cosa. Il padre di Sara è stupido. La amo e lei ama me. Perché non riesci ad accettarlo? Dove vai Sara? Ehi, non ho intenzione di dire niente a tuo padre. Ma devi tornare tra due ore. Grazie mamma, sei la migliore. Ah, ah. Cosa c'è di così divertente? Oh, Adam stava scherzando. È davvero divertente. Chiacchierate molto con lui. Sì, siamo buoni amici. Manuel, ci sei? Sono io, Marcus. Ho bisogno del tuo aiuto. Si tratta di Lisa. Che succede, Marcus? Ho bisogno del tuo consiglio. Perché da me esattamente? Perché sei un donnaiolo. Vai avanti, come posso aiutarti? Lisa sta uscendo con questo ragazzo, Jamal. Ma non è adatto a lei. Cosa devo fare? È facile. Devi solo riconquistare il suo cuore. Ok, e come posso farlo? Inventati qualcosa di romantico. Allora la sposa è di nuovo tua, fratello. Il piano è perfetto, grazie Manuel. Non lo so, Jamal. Cosa non sai? Se voglio stare con te. Ma pensavo di piacerti. Sì, ma ho appena lasciato Marcus. Ho bisogno di tempo, Jamal. Quanto tempo ti serve? Non lo so, devo pensare. Vieni a letto, Kunzibar? Ho una sorpresa per te. No, non posso adesso. Devo preparare il prossimo test. Ma è già tardi. Il test non si scriverà da solo. Ora esci da qui. Sara, sei qui da qualche parte? Sono io, Samuel. Forse ha perso la strada. Oppure suo padre l'ha catturata. Hey Samuel, sono io. Sara, ce l'hai fatta. Sì, ma abbiamo solo due ore. Dovrò tornare a casa presto. Ok, allora facciamo del nostro meglio. Ciao Svetlana. Dov'è Sara? Non era nella sua stanza. Sta con Lisa solo per un po'. Sta studiando per un test. Perché nessuno me lo dice? Ho sempre bisogno di sapere dov'è Sara. I miei nemici sono ovunque. Calmati. Tornerà tra due ore. Lo spero. Marie, adesso basta. Stai semplicemente appeso al cellulare tutto il giorno. Cosa c'è che non va in te? Cosa? Sto messaggiando con Adam. Dov'è il problema? Non voglio che tu scriva con Adam. Questo è il problema. Ah, ecco perché sei così divertente. Perché scrivi con altri uomini, Marie? Adam e io siamo solo amici. Non devi impazzire subito. Non ti è permesso avere amici maschi? Sì, lo sono. No, non te lo permetto. Non puoi proibirmi niente. E quella discussione è finita. Sì, ciao. Sono Lisa. Lisa, sono Susy dell'ospedale. Marcus ha avuto un incidente. Sta bene? Vuole vederti ancora. Per favore, vieni al parco forestale il prima possibile. Ok, sto arrivando adesso. Spero che Marcus stia bene. Marcus, stai bene? Sì, sto molto bene. Cos'è questo qui? Pensavo che dovessi andare in ospedale. Questo è tutto per te. Perché lo stai facendo? Perché ti amo. Mi hai mentito. Sì, ma solo per amore. Hai avuto la tua occasione, Marcus. Sto incontrando Jamal adesso. Dov'eri Sara? Sono stato con Lisa solo per un minuto. D'ora in poi, voglio sempre sapere dove ti trovi. L'hai capito? Sì, papà, te lo dico. Buono. Altrimenti dovrò trovarti una guardia del corpo. Non è sicuro là fuori. Il mio cellulare ha squillato. Quale idiota mi manda messaggi in questo momento? Jamal, cosa vuoi da me? Sono le sette del mattino. Ehi Lisa, hai già avuto tempo per pensare? No, non l'ho fatto. Smettila di chiedermelo continuamente. Ok, scusa. Tesoro, vado a farmi una doccia. Va bene Marie, a presto. Ha lasciato il suo cellulare qui. Vediamo cosa sta scrivendo Adam. Dovrebbe essere divertente? Quel tipo è semplicemente disgustoso. Vediamo se ti piace, Adam. Qual è il problema con Maria all'improvviso? Non vuole più chiacchierare. E dice che sono un maiale. E tu sei una stupida mucca. Tutto quello che devo fare ora è eliminare la chat. Abbi cura di te Adam. Ormai sei storia. L'appuntamento con Sara è stato così bello. Dobbiamo ripeterlo. Samuel, cosa stai facendo lì? Non puoi chiamarmi così. Perché no? Forse mio padre sta ascoltando tutto. Dai, non è così pazzo. Incontriamoci oggi. Non è troppo rischioso. No, non è successo niente nemmeno l'ultima volta. Ok, ci vediamo nello stesso posto. Sì, perfetto. Ci vediamo dopo. Manuel, sono di nuovo io. Ho bisogno del tuo aiuto ancora una volta. Per favore fatemi entrare. Cosa stai facendo qui? Il piano non ha funzionato. Dobbiamo pensare a qualcos'altro. C'è ancora un'opzione. Ma è molto rischioso. E metteremo Jamal nei guai con questo. Che cos'è? Dimmi. Vieni, devo mostrartelo. Ciao Paola, vado al lavoro. Dove altro? Sei arrabbiata con me? Puoi rispondere tu stesso a questa domanda. Ok, torno alle 16. Aspettate un attimo. Non tornerà per altre otto ore. Ho un'idea. Va tutto bene, Marie? Sembri un po' triste. Adam non ha scritto tutta la mattina. Altrimenti, scrive sempre. Forse gli è successo qualcosa. O semplicemente non ha più voglia di scrivere con te. Dove vai di nuovo, Sara? Vado da Lisa solo per un minuto. Scriveremo un saggio insieme. Quando tornerai a casa? Tornerò tra un'ora. Ok, a presto. Uff, era vicino. Cosa stiamo facendo qui? Che aspetto ha? Stiamo creando un account falso. E poi? Cosa ne facciamo? Stiamo per ingannare Jamal. Qualcuno mi ha scritto su Instagram. Chi è Chantal? Sembra sexy. Wow, quel profilo sembra fantastico. Non è la prima volta che lo faccio. Quante volte l'hai fatto? Ti ricordi quando il signor Kunze è volato in Spagna? E non abbiamo scritto il test. Sì, non è passato molto tempo. E speranza mi aspetta in Spagna. Ho intenzione di sposarla. E crea una famiglia con lei. Sarà il giorno più bello della mia vita. Salve, avete effettuato una prenotazione? Sì, mia moglie ha prenotato la camera. Qual è il nome di tua moglie? Si chiama Esperanza Rodriguez. Mi dispiace, ma non riesco a trovarla nel sistema. Inoltre, il suo account non esiste più. Sono stato ingannato. Sono stato io. Cosa facciamo con Jamal adesso? Non ci resta che avvolgerlo intorno al dito. Ma lo farò con la mano sinistra. Chantal dice che sto bene. E vuole incontrarci. È tutto così veloce. Ok, abbiamo quasi finito. Sì, certo, possiamo incontrarci oggi alle 15. Forza Marcus, dobbiamo prepararci per l'appuntamento. Mi sei mancato così tanto. Anch'io, Samuel. Perché è così vuoto qui? Sono già le 10. In effetti, dovrebbero esserci tutti. Esatto, oggi è un giorno festivo. Come potrei dimenticarlo? Poi posso tornare a casa. Lo dici solo perché non hai amici? Certo che ho degli amici. Oh sì, chi allora? Beh, Sven, per esempio. Quando è stata l'ultima volta che hai visto Sven? È successo due anni fa. Questo non è un amico. L'hai sentito? C'è qualcuno alla porta. Bene, allora aprilo. Forse è uno dei tuoi amici. Pensi davvero che funzionerà? Sì, fidati di me Marcus. L'ho già fatto dieci volte. Davvero adesso? No, certo che no. Non sono pazzo. Vieni fuori adesso. Non abbiamo molto tempo. Ma sono imbarazzato. Vuoi che Lisa torni o no? Sì, lo voglio più di ogni altra cosa. Allora esci subito da lì. Come potrei dimenticarlo? Oggi è festa. Almeno ora posso passare del tempo con Paula. Lo ha sempre desiderato. Perché c'è un'altra macchina qui? Paula potrebbe avere ospiti. Spero che sua madre non sia qui. Lei non mi è mai piaciuta. La casa sull'albero è laggiù. È come la nostra seconda casa. Lo compreremo un giorno. Ehi, sei Sara? Chi lo vuole sapere? Voglio saperlo. Perché ti interessa? Rispondi alla domanda. Non sono Sara. Lei è lì dietro. Bel tentativo. Sali in macchina. No, nessuna possibilità. Non lo dirò più. Sali subito in macchina. Chi sei? E come sei arrivato qui? C'è una chiave sotto lo zerbino. Chiunque può entrare qui. Ok, e tu chi sei di nuovo? Sono Adam. Paola, sono a casa. Possiamo uscire oggi. Dove sei? Che cos'era quello? Credo sia mio marito. Pensavo avessi detto che non sarebbe tornato prima delle sedici. Devi nasconderti. Devi nasconderti. Ti prego. Dici sul serio? Sì. Non voglio che sappia che sei qui. Pensi davvero che funzionerà? Sì, puoi fidarti di me Marcus. Jamal se ne innamorerà. Ok, cosa facciamo adesso? Hai ancora bisogno di vestiti diversi. Allora puoi andare. Che aspetto ho? È perfetto. Incontrerai Jamal tra 30 minuti. Ricorda, abbiamo bisogno di tutto in video. Ok, farò del mio meglio. Cosa vuoi Lisa? Se non vuoi stare con me. Allora troverò qualcun altro. Non mi hai sentito? Voglio che tu salga in macchina. Ti prego. Non fare niente a Sara. Non succede niente finché viene con me. Ok, arrivo. Brava ragazza. E non pensate nemmeno a chiamare la polizia. Devo aiutare Sara. Veloce. Ciao Kunzi Bear. Sei già qui. Sono libero oggi. Perché indossi abiti così strani? È stata una sorpresa per te. Ti prego, vestiti di nuovo. Ho prenotato un tavolo per noi. Partiremo tra 30 minuti. Ok, non vedo l'ora. Vado a farmi una doccia veloce. Cosa stai facendo qui? Esci da qui. Voglio parlare con Marie. Ma non vuole parlare con te. Non hai letto i suoi messaggi? Sì, l'ho fatto. Ecco perché sono qui. Puoi tornare subito fuori dalla porta. Non me ne vado finché non avrò parlato con Marie. Puoi dimenticarlo. Prima devi superarmi. Proprio come piace a te. Mi nascondo dietro l'albero. Sai cosa devi fare, vero? Sì, credo di sì. Prova a parlare come una ragazza. La tua voce è troppo profonda. È meglio adesso? Sì, molto meglio. Penso che stia arrivando. Ehi, tu sei Chantal, vero? Sì, e tu sei Jamal, vero? Sei davvero carina. Grazie anche a te. Quel tipo ha appena rapito Sara. Non riuscirà a farla franca. Ho intenzione di fermarlo. Dove stiamo andando? Questo non te lo sto dicendo. Non sono stupido. Smettila di infastidirmi. Devo concentrarmi. Non c'è niente di meglio di una doccia calda. Beh, dare una F a Lisa è meglio. Veloce, devi andare. Come dovrebbe funzionare? Tuo marito è qui. A me non importa. Fatelo e basta. Chi diavolo sei? Io ah, sono il tutto fare. E perché stai uscendo dalla mia camera da letto? Ho dovuto installare una pipa. Cosa sta succedendo qui? Martin, chi è quello? Non mi riconosci, principessa dello zucchero? Sugar Princess, fai sul serio Marie? Perché non vuoi più chiacchierare con me? Semplicemente non mi hai più risposto. Sì, perché mi hai insultato. No, non l'ho fatto. Sì, i messaggi di stamattina fanno davvero male. Non ho scritto niente stamattina. Se non sei stato tu, allora chi è stato? Sei single? Sì, e tu? Beh, è un po' complicato. È una domanda semplice. Come può essere complicato? Ok, sono single. Quindi davvero non stai vedendo nessuno? No, non ho intenzione di incontrare nessuno. Manuel, vieni qui. Ben fatto. Abbiamo tutto. Cosa sta succedendo qui? Non mi riconosci Jamal? Sono io, Marcus. Perché sei vestita da donna? Perché ho intenzione di mostrare a Lisa chi sei veramente. Ho tutto in video. Lisa è mia. Aspettate. Ti prego, non farlo. Sono laggiù. Devo mantenere un profilo basso. Mio padre è ricco. Può darti un sacco di soldi. Pensi che sia una questione di soldi? È molto più di questo. Ok, siamo arrivati. Appena mi fermo, tu esci. Stiamo entrando nella grotta adesso. Ma sembra inquietante. Non era una domanda. Andiamo adesso. Sono entrati nella grotta. Devo far uscire Sara da lì. Resisti Sara, arrivo. Dimmi cos'è successo adesso. Oppure prendi una F. Ma non sono un tuo studente. Non puoi darmi una F. Allora questo è quello che otterrai. Hai, fa male. Dimmi tutto, adesso. Oppure anche l'altra guancia ne riceverà una. Mi ha invitato Paula. Ha detto che non saresti tornato prima delle 16. È vero, Paula? Mi dispiace, Kunzibéar. Cosa hai fatto, Martin? Non ho fatto niente, lo giuro. Hai scritto bene i messaggi? Sì, non voglio che chiacchieri con Adam. Esci subito da casa mia. Davvero preferisci lui a me? No, ti sto solo buttando fuori. Non è necessario. Ci vado volontariamente. Lisa, devo mostrarti qualcosa. Marcus, perché indossi un vestito? Una lunga storia. Ma guarda il tuo telefono. Ti ho inviato un video. Cosa sta succedendo qui? Lisa, aspetta. Non è come sembra. Ti prego, lasciami andare. Mio padre ti dà quello che vuoi. Puoi avere tutto. Pensi che non lo sappia? Conosco tuo padre. Allora sai anche cosa ti sta succedendo, giusto? Ti punirà. Non ci credo. Perché ne sei così sicuro? Perché lavoro per tuo padre. Ciao Sara. Papà, cosa stai facendo qui? Ti ho fatto rapire. Cosa hai fatto? Come hai potuto farmi una cosa simile? È colpa tua. Perché non hai mai tempo per me? Quindi è colpa mia se mi hai tradito? Sì, hai capito bene. Lo vedi, Lisa. Incontra altre donne. Ti meriti di meglio. Non era tutto inteso così. Oh sì, come si intendeva? Sei davvero eccezionale. Sì, Jamal. Sei qualcosa. Non sto parlando solo di Jamal, Marcus. Cosa ho fatto di sbagliato? Hai mentito. Hai ingannato Jamal. E ti sei travestito da donna. Ho fatto tutto solo per te, Lisa. Per me o per te? Per entrambi. Jamal non è adatto a te. Non lo vedi? Sì, ma chi dice che sei buono per me? Dove sei Sara? Sei qui da qualche parte? Sono qui per aiutarti. Deve essere tornata lì. Ho dovuto farti rapire. È l'unico modo in cui imparerai la lezione. Sei completamente pazzo? Mi hai mentito. Non ti sei incontrato con Lisa. Ma con quel ragazzo Samuel. Quindi cosa? Non devi farmi rapire subito. Ti ho detto di non incontrarlo. Cosa non hai capito a riguardo? Non mi interessa. Amo Samuel. Stai lasciando andare Sara adesso? O dovrai fare i conti con me? Come ci hai trovati? Ti ho seguito. Ora lascia stare Sara. Rischieresti la vita per Sara? Sì, certo. La amo. Forse mi sbagliavo. Ok Sara, puoi conoscere quel ragazzo. Non spezzare il cuore di mia figlia. O ti spezzo le ossa. Quindi non vuoi stare con me? No, non voglio. Cosa c'è con me? Ho ancora una possibilità? No, siete entrambi strani. Non voglio avere niente a che fare con entrambi. Quindi siamo insieme adesso? Cosa no? Ovviamente no. Pensavo fossimo solo amici. Non ci credi nemmeno tu, vero? Martin aveva ragione. Sei un maiale. Devo recuperarlo. Non sono un maiale. Dove vive Speranza? A. Germania. B. Italia. C. Spagna. Lascia un commento. A. Germania. Grazie a tutti